sono appena ritornato da questa zona sono stato ecco di una settimana e mi giunta la notizia che ci sono stati dei gli incendi immensi ma devo dire la mia perché ero sul posto e ho visto delle cose quindi debbo fare questo video allora io sono stato vediamo se ci riesco vicino castello al mare del golf mettiamolo qui ho visitato se gesta e sono stato alla riserva dello zingaro che è qui a san vitolo capo a san vitolo capo ad erice spiaggia di macari insomma in questa zona gli incendi io mi sono accorto di che c'erano questi incendi già il primo giorno una settimana fa appunto quando stavamo arrivando stavamo per approdare nel nostro luogo di alloggio e con il nostro alloggio che era più o meno in questa zona qui vedevamo gli incendi già il primo giorno ma pensavamo visto che sono così vistosi in un'aria così vasta e così piena di importanti monumenti di sicuro qualcuno interverrà pensavamo magari adesso vengono come si chiamano i canadi sentiremo delle sirene ma devo dire la verità non mi ricordo se era il 21 il 22 no era il 24 se nulla di tutto ciò addirittura di notte la notte del 25 ritornando da cinisi eravamo stati a visitare ecco la casa di pepino impastato ritornando abbiamo visto tracce di fuoco ecco in alto su un monte che adesso non so dire bene se era il monte cofano da lontano sembravano delle luci artistiche e non riuscivamo a capire di che cosa si stesse trattando poi avvicinandoci poco a poco lungo la strada che percorreva l'aria si siamo resi conto che era incendio incendio come quello che avevamo visto già la mattina su una più vasta aria e lì per lì non ci siamo preoccupati il domani siamo andati a sagesta ricordo che proprio sotto il tempio di sagesta e mi sono ritrovato a parlare con un turista che diceva ma questi incendi come mai ed io ho risposto diciamo alla meno peggio dicendo magari lo fanno apposta per bruciare la star paglia sono degli incendi contenuti il fumo arrivava ora fino a lì a sagesta si sentiva l'odore tra l'altro in quel momento stavano girando un film mi pare una serie televisiva con l'attore del capo dei capi però non ne so nulla e c'era grande fermento sapete macchinari operatori tecnici curiosi che guardavano a destra ea manca a un certo punto poi il 26 27 ancora incendi fumo e ora ecco la cosa strana ho cominciato a sentire qualche sirena a vedere qualche camion dei pompieri alcuni posti presi di mira e vigilati per contenere o per affrontare il fuoco e allora ho cominciato a realizzare no non è un non sono degli incendi ecco creati diciamo a posto per bruciare della star paglia insomma utilizzando qualche tecnica ma c'è qualche cosa di diverso e infatti poi il l'ultimo giorno utile per visitare la riserva dello zingoro dalla parte nord dove c'è la la cala del luzzo c'è l'ultima spiaggia venendo da sud dell'ultima ovviamente da nord è la prima riceviamo siamo fermati da una camionetta che ci dice no non potete entrare c'è allerta meteo ci sono degli incendi e quindi oggi la riserva è chiusa allora optiamo ci viene suggerito magari ma noi optiamo per san vitolo capo e anche da lì vedevamo in effetti incendi ancora in corso a questo punto era la giornata del vento proprio si sentiva già nella notte il vento che muoveva le finestre e così è stato sia per per oggi il 31 no scusate il 30 è stato così per il 29 è stato così per il 28 quindi il vento ha aumentato casomai la portata del degli incendi ma gli incendi c'erano già da prima e niente a questo punto poi siamo andati a visitare la grotta mangiapane e da lì ho fatto diciamo alcuni video alcune foto e vedevo che l'ingendio si avvicinava proprio alla spiaggia di macari o quantomeno da lì lo vedevo in quella direzione ora tutto questo per dire cosa io volevo realizzare dei video che realizzerò per promuovere la zona dal mio piccolo anche alcune attività che ci sono sul posto che sono state molto cortesi nei miei confronti però mi rimane la mare in bocca a pensare di essere stato praticamente l'ultimo testimone ma almeno per parte mia coincidenzialmente di un paradiso così vasto così polietrico così rigoglioso di fauna di flora di mare di monti di sorprese di persone e volevo fare un video che potesse ritrarre in qualche modo la bellezza di questo posto non so come dire invece devo improvvisare un attimino quest'altro pezzo che sto facendo per manifestare il mio disappunto perché secondo me si poteva fare di più e subito prima si poteva si doveva a questo punto io farei delle indagini per vedere se c'è del dolo perché gli incendi erano diversi fra di loro in diversi punti contemporaneamente e anche non e poi alla fine alla riserva dello zingaro che sembra a questo punto essere quasi come l'obiettivo finale di un disegno non so da chi artatamente costruito quindi vi lascio un attimino guardare qualche immagine di quello che è stata la mia vacanza per rendervi conto del ci volesse andare per rendervi conto di che cosa stiamo parlando io personalmente ho avuto modo di constatare che questa è la provincia più bella dal punto di vista turistico e non sto esagerando e vedere che accadano certe cose con una certa leggerezza da parte di chi dovrebbe occuparsi soprattutto di prevenire certi disastri e poi di gestire gli stessi mi fa arrabbiare e anche se stessi mi fa arrabbiare